Ciao Guter, ancora bentornato da Carlo. Oggi ti parlerò del gruppo di continuità. Il gruppo di continuità è un dispositivo... Guter, ma che è successo? Ah, andate via la luce e si è spento tutto. Ma come non usi il gruppo di continuità? Eh? Non sai cos'è? Il gruppo di continuità non sai cos'è? Traducendo dall'italiano all'italiano, è un dispositivo che ti garantisce autonomia elettrica in caso di blackout. Cioè, se viene a mancare l'energia elettrica nel tuo appartamento o condominio, questo dispositivo è in grado di reagire immediatamente e subentrare il luogo dell'alimentazione di rete, evitando che le tue utenze smettano di funzionare, si spengano. Ti permette quindi di proseguire, entro certi limiti, ad utilizzare il computer o qualsiasi altro dispositivo, fino a ripristino dell'energia elettrica o comunque finché è in grado di alimentare le varie utenze. In talunni casi è di vitale importanza perché, immaginati in sala operatoria durante un'operazione, non vorresti essere in quella sala in caso di blackout. Che dici? Quindi vedi l'importanza in certi momenti? Ma come si presenta? La sua struttura varia in base alle capacità di sostegno. Le dimensioni del peso possono variare da circa più o meno un terzo rispetto al case, al cabinet del computer, e quindi pochi chilogrammi, fino a cassettoni di molti chilogrammi di peso. Estremizzando, ti cito un aneddoto. Nel nord Europa, non ricordo di preciso in quale città e in quale nazione, un tizio vive in una casa totalmente autonoma dal punto di vista elettrico. Ha un impianto fotovoltaico che fornisce alimentazione alle utenze casalinghe, ed in più ricarica il gruppo di continuità che è piccolissimo. L'appartamento, infatti, ha un edificio appendice delle dimensioni di una camera box, nel quale sono ubicati accumulatori per fornire corrente all'edificio dal tramonto, finché il sole, il giorno dopo, non ricomincia a ricaricare gli accumulatori. Hai capito quindi le potenzialità di questi gruppi? Nel caso nostro, senza entrare troppo nei dettagli costruttivi, citiamo che all'interno ci sono uno o più accumulatori, batterie ricaricabili, di varia grandezza e capacità di erogazione di corrente. Le batterie interne possono essere ricaricate direttamente dalla rete elettrica o da metodi alternativi tipo celle fotovoltaiche. Oggi nei negozi puoi trovare una vasta gamma di carica batterie fotovoltaici. Alcuni possono offrire anche aspetti decorativi al tuo appartamento o giardino, in quanto inseriti in impianti di illuminazione con piccole lampadine, vedete ad esempio le lampade di emergenza casalinghe, oppure dei led, per illuminare in maniera più o meno intensa piccole zone. Il numero di batterie determina la potenza del gruppo di continuità. Tanto più è alto il numero al suo interno, maggiore sarà la potenza erogabile e quindi la durata della corrente fornita. Maggiore però sarà anche l'ingombro ed il peso che ne deriva. La configurazione essenziale del gruppo di continuità è data dalla presenza di un interruttore o pulsante di accensione e spegnimento, da una presa di collegamento alla rete con cavo relativo ed una o più uscite per le varie utenze, quindi una o più prese. Però non preoccuparti se sono presenti poche prese per le utenze, quindi se sono in minor numero rispetto alle utenze da alimentare, in quanto potrai acquistare una ciabatta elettrica e collegandola ad esso potrai alimentare quante utenze desideri. L'unica accortezza in questo caso è che la spina della ciabatta normalmente non è adeguata per l'uscita del gruppo di continuità, quindi dovrai armarti di santa pazienza e acquistare o crearti un cavo adattatore. Ma come scelgo? Benissimo, se il tuo è un uso ad esclusivo casalingo, ti ronzo a spirito di sollievo. Per acquistarlo controlla solo il valore di potenza espresso in Watt, il Watt è l'unità di misura della potenza elettrica. Non farti confondere da altri parametri perché potrebbero non essere realistici in relazione alla vera potenza erogabile. Come termine di paragone posso citarti la mia esperienza, affermando che potenze di circa 300-400 Watt sono sufficienti a permetterti di lavorare per qualche decina di minuti in caso di blackout. Ma quest'ultima fase però lascia il tempo che trova. Mi spiego. Il tempo di durata è variabile in base alle utenze collegate al gruppo e dal tipo di lavoro che stai eseguendo sul tuo PC. La tua parola d'ordine in caso di blackout elettrico è parsimonia. Infatti dovrai spegnere tutte le utenze non necessarie al tuo scopo del momento, evitando così inutili sprechi. Ad esempio, se dovessi scrivere con un programma di elaborazione testi, spegni ad esempio le casse se stavi ascoltando la musica. Oppure evita di navigare e quindi spegni modem e router. Ancora rimanda la stampa e quindi spegni la stampante. E cose di questo genere. Considera in termini di consumo che maggiore sarà l'uso del processore, più corrente esso consumerà e quindi minor autonomia otterrai. Video e grafica, ricorda, sono programmi ciuccia energia, quindi consumano dannatamente corrente. Come si collega un gruppo di continuità che tra parentesi è anche indicato con la sigla UPS? Non accendere innanzitutto o collegare il gruppo di continuità alla rete all'inizio. Prendi la tua ciabatta e collegala all'uscita del gruppo di continuità. Successivamente collega tutte le altre utenze alla ciabatta stessa. Se non hai acquistato la ciabatta, in quanto le uscite a disposizione del gruppo sono più che sufficienti, allora collegale tutte all'uscita del gruppo di continuità. A questo punto collega il cavo in dotazione al gruppo di continuità alla rete elettrica, quindi al muro. Accendi il gruppo di continuità con l'interruttore posto sul retro oppure sul davanti. Ed ora accendi tutte le varie utenze. Fuoco. Ora, buon backup, Gutierre. Ma come mi accorgo che è entrato in funzione? Beh, a parte che le altre utenze della tua cerchia si spegneranno, comunque vedrai i LED presenti sul frontale del gruppo cambiare stato e comincerai tra l'altro a sentire un bip saltuariamente che è emesso dal dispositivo il quale ti avverte proprio dell'entrata in funzione e quindi della mancanza di corrente elettrica della rete. Tale bip aumenterà la frequenza quando mancano pochissimi minuti al suo spegnimento e quindi alla disalimentazione totale delle utenze. Alcuni altri hanno una barretta in LED che permette di evidenziare, in base al numero di LED illuminati, l'autonomia residua. In questo caso affrettati a salvare il tuo lavoro e spegni immediatamente il PC. Nella prossima lezione ti parlerò di alcuni accessori per computer. Come sempre, un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima! Grazie a tutti!